ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo una coppia sposata incomincia a vivere degli eventi paranormali davvero spaventosi secondo questi due coniugi di notte alcuni oggetti verrebbero spostati o buttati a terra nella loro camera da letto avrebbero anche notato una strana ombra nera muoversi facendo cadere altri oggetti non sapendo più cosa fare il marito decide di installare una telecamera con visione notturna ciò che riprende è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato nel video seguente alcuni giocattoli su di un tavolino vengono fatti cadere da una forza invisibile potrebbe essere stato anche il vento o uno spiffero d'aria comunque lascio a voi l'ultima parola un esploratore urbano entra in un edificio abbandonato sembra che l'edificio sia stato abbandonato dai vecchi proprietari in modo frettoloso l'impianto elettrico sembra che sia stato lasciato in buono stato nonostante ciò non c'è corrente una volta iniziata la sua esplorazione incominciano a verificarsi degli strani eventi il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato esplorazione incominciano a verificare la sua esplorazione incominciano a verificare la sua sul La ila è la 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 . . bismillah 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 ah 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 bismillah 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 ah 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 la ilah illallah gli strani fenomeni continuano ad aumentare al punto tale che l'esploratore decide di andare via prima di andarsene chiama l'amico non sentendo più la sua voce scende alcune scale e trova l'amico a terra svenuto a quel punto aiuta l'amico a rialzarsi per cercare di andare via da quel luogo ma sembra però che gli spiriti non vogliano più lasciarli andare ah 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 L'ultimo filmato è stato realizzato in un cinema, completamente vuoto, dove si dice che se agire un'anima in pena. Il video mostra quella che sembra essere una persona seduta su una sedia, almeno così sembra. Comunque andiamo a vedere il documento. E anche per oggi è tutto ragazzi. Il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao.